Allora, se c'hai il tre, fai un uomo, un uomo non fa giocare con le donne, un uomo non fa giocare con le donne, un uomo non fa giocare con le donne. Sto appeseggiando il setto, quella che vuoi. Tony! 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 Andale, andale! Andale! Stavo dicendo a lei che si fa mettere scopa, per cavolo, dai, no. Eh no, non è buono che si fa mettere scopa. Scusa, io sto parlando da prima. Scusa, sai come dicevano Messina? Eh. Vediamo che sotto il letto è sempre sporco. Come? Sotto il letto è sempre sporco. Eh sì, perché ci andavano sopra. No, perché si scopa sempre sopra. Si scopa sempre sopra. Si scopa sempre sopra. E dopo sotto c'è più di rinale, no? Allora, vabbè? Allora, oggi che ti pensi Alloca, mangiare è buono, eh? È buono mangiare, bravo, bravo. Molto buono, molto buono. No. Questo è un brand che costa 100 dollari. Sicuro. Oia, costa, costa. Che tipo? Allora... Tu pensi che vai alla sala? Chi è tornato oggi qua, eh? La bacca alla sala? Pensate che ci sta, perché si è andata dalla sala con la cavatta. Francesco, ci sta qualcuno in Italia che ci vuole dire ciao? Ciao, Vincenzo. Ciao. Chi è Vincenzo, eh? Mia mia sorella. La sorella. La fai vedere in altre pochettine? Sì. Arriba il 28 di luglio, vado in Italia. E questa qua ci arriva più ci piace. Sì. Salute tutti i ripi, tutti i paiaveni. Salute tutti dei grecchi. Dei grecchi. Andorio di greco. Senta te. Ciao, 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 ciao.